Inter Milan VSFC Bologna 17 febbraio, 2012 Senchensie Seltzer-Ucchensie. Autor, di, punto, Seltzer, trattino, Ucchensie. Il mio suggerimento, vincete per il Milano. Nel secondo in cui la parte della serie italiana incontra questo siate per due gruppi al momento a varie pagine di tavola che, tuttavia, non conosce qualsiasi vittoria già da quattro giri neanche. Questo ha quindi quinto messo tra tre sconfitte in questo momento uniformi e solo un tiro crede mentre la Bologna è caduta l'una dietro l'altra dopo che quattro ricorre al diciassettesimo posto. Tuttavia, avete anche due riunioni meno. È stato inviolabile nei suoi duelli precedenti e ha una serie di tredici vittorie e unici due tiri contro la Bologna tra. Essi hanno celebrato una vittoria sicura con tre due punti uno anche a ospite nella prima parte di stagione. L'inizio, 17 febbraio, 2012. Ore 20.45. Ma in quel momento, la forma è andata di tramontagna Apritevi, mentre è in una crisi il mese scorso. Su questo abbiamo già detto qualcosa nell'introduzione. Le spese di allenatore Rainer che l'alto quinto posto nella serie A tiene. Tuttavia, hanno perso la lotta per lo scudetto probabilmente ma anche a un punto creduto nell'ultimo quattro giri anno. Il Milano è cioè nel comando con undici punti. Quindi sarà il loro obiettivo principale che ora posiziona almeno conduce questi su uno nella lega di campioni venire. Ma essi devono vincere per qualcosa come così più velocemente possibile, di tre vittorie e un tiro. Il caso è stato esatto come esso prima di questa serie infelice. Naturalmente l'ultima sconfitta contro Novara è anche stata il colpo più grande ma ovviamente molto di più accade ancora nelle loro teste. poiché essi hanno cambiato il loro stile e disposto completamente in tempo molto breve. Siete quindi divenuti completamente innocui nell'attacco, nel centrocampo senza idee e nella difesa abbastanza vulnerabili. Avete raccolto quattro colpi individualmente solo nei duelli contro Romani e Sepalermo. Essi hanno migliorato questo segmento contro Novara in parte poiché essi si sono arresi solo una volta. Il tiratore scelto vuole non gli siate emilito a causa di ferite e invece di questo tempo a il recuperare Forlandi venite l'opportunità mentre uno deve ancora quello e i difensori interni feriti Samuel così come giocatori di centrocampo Stankovic, Alvarez e Guarin non prendono di vide recitazione. Lista attesa tra, Giulio Cesare, Maicon, Lucio, Ranocchia, Kivu, Zanetti, Cambiasso, Poli, Smider, Pazzini, Forland. Quello che la situazione a breve scadenza riguarda al gruppo della Bologna non può descrivere uno esso come buono ma anche non cattivo. Essi non sono stati sconfitti da cinque giri ma con quattro tiri dietro l'un l'altro e due giochi si sono spostati a sono ora in lo cucite venite la zona pericolosa. Avete solo quattro punti per Lecce di più come diciottesimo. Ma le parole di allenatore tra cui Pioli li ha ottenuti dopo, poiché essi hanno creduto rispettivamente tiri anche alle tre prestazioni dell'ospite pesanti precedenti a Napoli, Romani e Selecce. Essi tenteranno quindi con lo stesso avvicinamento coraggioso di ottenere un risultato positivo anche sullo stadio Giuseppe Mezzi. Naturalmente questo sarebbe un tiro per lei ora, anche, poiché in questo modo essi continuerebbero la serie senza sconfitte. Essi quindi tenterebbero nel giro successivo ma anche gli incontri la avevano lasciata a quale gioco a casa credere tanti punti come possibile e in questo modo raccogliere il mezzo di tavola infine. Tuttavia, è cosciente per loro che uno aspetta lei, che sarà sotto una grande pressione e quindi allenatore che Pioli ha annunciato uno un poco più il gioco attento anche con tre difensori interni e quattro giocatori di centrocampo mentre essi cercherà la loro possibilità esclusivamente dal controbattere attacca e essere più preciso sopra il Ramirez diamante veloci così come il difensore interno esperto di Vaio nel venerdì sera ha motivato moltissimo tra le ferite non sono nella competizione a causa di solo giocatori di centrocampo come i difensori interni loro a questo tempo. Lista attesa alla Bologna, Gillette, Raggi, Fortanova, Anzonsson, ha cucinato Intercittà, Perez, Mudingai, Morleu, Diamante, Ramirez, di Vaio. Pensiamo inoltre, anche, sebbene noi durate settimana con lo stesso suggerimento nella riunione in mezzo tra e abbiate oltre a questo voluto dire molto a Novara, quello tra questa sola destra. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.